Partita che vale doppia oggi al Comunale, dove il Capistello deve innaffiare i suoi sogni e l'acqua e Savone seppellire i suoi incubi. Obiettivi opposti, insomma, per due undici che giocheranno un match di livello, tattico e acceso sino all'ultimo secondo. L'avvio è tutto granata con Edoardo De Meis che già al quinto prova a sparigliare dalla distanza, ma la palla decolla sopra la trasversale. Minuti seguenti tesi e equilibrati, ma eccessivamente tattici per potersi divertire un po'. Poi, però, a metà primo tempo, i Granata accelerano e bustano di nuovo con Capitano De Meis il cui tiro a giro al ventitresimo si perde di poco a lato. Sale il Capistrello e al venticinquesimo Pollino Pescafranchi che di testa non riesce a svoltare perché Palena si disimpegna a mestiere. Ventisettesimo, occasionissima Aquino con botta dai ventimetri che l'estremo ospite disinnesca a fatica e in due tempi. Quarantesimo, punizione calciata da De Meis che pesca la testa di Aquino, ma Palena smanaccia e salva. Il primo tempo è questo, la ripresa offrirà più spunti e più acqua e sapone. Intanto, però, al quinto ancora il Capistrello può recriminare con Franchi stoppato sotto porta. Blocca Palena e si riparte con gli ospiti che iniziano a lasciare tracce. La prima ha le sembianze di Majorani che dal limite si vida il palo e inizia a scoprire le proprie carte. Undicesimo, eccesso di zero da parte di Motula e quasi non uccella il proprio portiere nel tentativo di salvare il proprio regno. Missione comunque compiuta e torniamo dall'altra parte del campo dove Petito al ventiduesimo si dimostra un rapace, ma Di Girolamo vola e salva il risultato. Ventottesimo, la palla passa di nuovo fra i piedi dei Capistellani con guerra che suggerisce per De Meis alla conclusione di poco a lato. Sessanta secondi e si accende Marrone che si accentra con crude ma viene frenato da Di Girolamo che respinge. Trentacinquesimo, acqua e sapone pericolosissimo in velocità con Marrone che pesca Petito al diagonale che l'estremo di casa respinge alla garella. Piedino fatato e Capistrello salvo. Quarantunesimo, calcio d'angolo ospite, un indiavolato Marrone sul primo palo prova la spizzata vincente ma va a metri dal palo locale. Minuti finali, vibranti e nervosi, ultime cartucce per entrambe con il Capistrello che spara a salve ma si chiede. Chi ha abbattuto guerra? Il sospetto è atroce e ci accompagna al quarantacinquesimo quando De Meis su punizione pennella per Aquino rimparlato di poco sopra la trasversale. È l'ultima occasione di un incontro con post partita concitato e brindisi per la salvezza raggiunta in casa a quest'apone. Playoff più lontani invece per i ragazzi di Iodice che però a San Buceto venderanno cara la pelle. Ne siamo certi. Fabio Iodice, un pareggio che lascia la mano in bocca? Lascia la mano in bocca, certo è chiaro che volevamo vincere perché comunque per cercare di entrare nelle prime cinque dei playoff. Però è chiaro che ancora non è finita, manca una partita, stiamo là perché alla fine stiamo tutti là a pari. Sportore ha pareggiato se non sbaglio, è la batteria di Capinto, quindi San Buceto ha perso a Ponte Romano, quindi siamo consapevoli che ce la giochiamo all'ultima partita a San Buceto e ci proviamo fino alla fine. Dopo partita con un mister Delgado estremamente contento, quasi entusiasta? Sì, sono contentissimo perché abbiamo ottenuto la salvezza un'altra volta con una giornata di anticipo, abbiamo fatto una cosa straordinaria anche quest'anno, penso che i ragazzi meritano questo premio, il giusto premio di tutta la società e i ragazzi hanno fatto un sacrificio enorme tutto l'anno.